bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le notizie delle ultime 24 ore di fortnite le trovate racchiusi in questi minuti nel video di oggi parleremo ovviamente della coppa 3 di marvel quella dedicata a black widow che inizierà questo pomeriggio ma vedremo anche alcuni aggiornamenti sul galactus che oramai è davvero pronto ad arrivare il bundle di joker e tante altre novità prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi che arriva dalla pagina ufficiale di twitter di fortnite the xbox series x and xbox series s are here sono qui drop into fortnite today and experience entra oggi su fortnite e prova la nuova esperienza di giocare in 4k a 60 fps nelle series x fully cross platform cross generation quindi ovviamente anche se avete la console di microsoft potete comunque giocare con ps4 con pc con mobile che utilizza android e con nintendo switch il cross platform è stato mantenuto ma lo avevano detto comunque la versione di fortnite su queste console di next gen è davvero incredibile perché gli effetti grafici li abbiamo già visti anche nei precedenti video sono ai livelli del realismo hanno messo il volumetric cloud che è quello del cielo hanno sistemato tutti gli effetti per quanto riguarda l'erba il vento gli alberi e tutti i cambi di clima e di giorno e notte quindi ragazzi questo è un'esperienza davvero incredibile e mai vista che vi consiglio di provare se ne avete la possibilità ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questo è un altro bel hot topic come si dice quindi un bel argomento caldo la fortnite black widow cup inizia esattamente questo pomeriggio alle ore 17 nei server europei se poi non potete giocare nei server europei vi ricordo che se cambiate server potete giocare di mattina e nei server asiatici o comunque durante il corso della giornata negli altri server perché giocare negli altri server molto semplice perché se avete già partecipato alle due precedenti coppe marvel potete giocando questa e la prossima che si terrà il 18 novembre ottenere al termine della prossima il deltaplano che viene dato gratuitamente a tutti i partecipanti quindi un'occasione anche per ottenere un oggetto dedicato mentre invece per quanto riguarda l'elenco dei vincitori in europa dal primo al 1200esimo duo perché si gioca in duo in america dal primo a 750 brasile dal primo al 300 asia dal primo al 150 e via via ragazzi quindi un bel in bocca al lupo a tutti mi raccomando dateci dentro e portate in alto il nome della bandiera italiana anche nella coppa marvel e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché volevo ricordarvi che da ieri pomeriggio è iniziata ufficialmente la collaborazione tra fortnite e disney in cosa consiste questa collaborazione ve lo ricordo un'altra volta molto semplice ogni acquisto di vbucks nello store di fortnite oppure ogni acquisto di bundle quindi pagamenti in soldi veri vi garantirà l'accesso per due mesi a disney plus dovrebbe arrivarvi probabilmente via mail insieme alla notifica di ricezione del pagamento anche un codice guardate i commenti perché intorno alle 9 del mattino quindi quando ci sono sono sveglio più o meno anche se inizio live alle 8 ma ve lo dimenticherò metterò il link quello che vedete lì in azzurro che ovviamente non potete cliccare dovessi dimenticarmi passate il live dalle 8 su twitch me lo ricordate e lo mettiamo in due secondi in quel sito che vi do è un sito ufficiale ovviamente di disney inserite il codice e penso che poi inizierà il processo per ottenere appunto i due mesi gratuiti di disney plus andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è davvero importante partiamo subito con il video perché dura un paio di minuti il bundle last love quindi la risata finale che in realtà quelli di fortnite avevano già anticipato il 20 agosto con un comunicato ufficiale nella loro pagina come vedete ragazzi il bundle dovrebbe essere l'ultimo dedicato a marvel a marvel buonotte a batman ed è compreso di tre skin in questo momento stiamo vedendo mida però c'è anche joker e poison ivy tutte le skin hanno un piccone dedicato in questo caso stiamo vedendo la doppia spada di mida mentre per quanto riguarda joker e poison ivy ci sono degli stili in realtà c'è anche per mida ma non è niente di che è lui che mette una maschera stiamo vedendo ragazzi il primo dei tre stili di joker davvero molto molto belli tutti e tre devo dire che come bundle è fatto assolutamente bene così come sono altrettanto belli i backpack andiamo a vedere il terzo stile dove praticamente c'è lui senza il cappello viola il backpack dietro è davvero molto molto simpatico e conclude il set con il piccone che è un martellone gigante chiamato bad joke che un pochettino ci ricorda dai ragazzi harley queen anche lei al suo martellozzo però questo è proprio proprio divertente e come secondo piccone abbiamo invece una chicca il bastone di joker con nella parte alta proprio la sua testa dorata con un ghigno incredibile completa il bundle poison ivy che in questo momento stiamo vedendo nella variante diciamo più cruda tra virgolette mentre invece quando volessimo vederla in versione normale abbiamo questo secondo stile nettamente più bello rispetto al primo backpack anche per lei che non poteva che essere una pianta carnivora e piccone che va a completare il set insomma ragazzi non c'erano tantissime news ma quelle poche io ve le ho dette voglio ringraziare tanto per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao